Musica Ciao a tutti ragazzi, continuiamo con questa mini capitolo Sessione notturna che durerà, durerà davvero poco 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 Perché poi il prossimo capitolo sarà un po' lunghetto quindi ve lo lascio per intero Buona visione! Buona visione! Nathan, sono stanca, possiamo andare ora? Accidenti, è davvero così tardi Scusami tanto, ero concentrato sul mio lavoro So che oggi è stata dura Ehi, stamattina ti ho comprato un libro che ne dici di metterci comodi e leggerlo insieme? Sì, dai Devo averlo lasciato di là Perché non vai tu e lo prende? Intanto finisco e poi andiamo, ok? D'accordo, vado Vediamo, dove avrà messo quel libro Ciao a tutti! Ciao a tutti! Finisci, Leiden Non è divertente Hayden Sei stato tu, Aiden Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ah, l'hai trovato! Ora possiamo dedicarci seriamente alle fiambe della buonanotte Jody Jody, tutto ok? Sei pallida? È stanca morta, questo è certo Fa forza, Nathan, portala a dormire Sì? Sì? Sì, un momento Nathan, è per te Nathan Dawkins Nathan Che c'è? Nathan, che c'è? Mia moglie Le mia figlie Laura tornavano da casa dei miei Un camion Un ubriaco guidava contromano Sono l'arte Sono l'arte Ecco Jody, vieni, andiamo a dormire Nathan, tu resta qui Io torno subito Andiamo, Jody Lui Che è l'arte Allora, adesso è l'arte È l'arte È l'arte È l'arte È l'arte Grazie a tutti.